ok ragazzi continuazione del primo video visto che un tizio mi ha interrotto il video spero che non mi richiamo, se mi richiamo io lo prego sto spavendo tutti i colpi soltanto per me oh l'ho presa mi facevo prima di un venticone eh dai 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 con le granate l'ho uccido ragazzi con le granate pronto? no sono morto sei di vita sei di vita sei di vita sei di vita ok ragazzi ora cambiamo un attimo la mappa torna al centro Vicky ripetami devo iniziare a prendere la possibilità ti devo uccidere eh tornava al centro? mi ha abbandonato la modalità cazzo no vieni e fa tempo che Riccardo torna è che qua mi si carica tutto facciamo questa vieni qua subito la prima qua ci sei? ci sei? ci sei? ci sei? vabbè vai vabbè vai ok eccolo finisiamo la partita non l'ho mai provata questa la proviamo insieme a voi ma è un parkour? questo non lo so get ready? mi sa che sia un parkour no dai proviamo vabbè ma questi salti come sono umanamente possibili da fare cioè quel salto è umanamente possibile da fare se lo dice il gioco forse non mi devo prendere premiamo a farli senza fermarsi uno, due, tre, sei prima il livello fatto continuiamo a fare oh mio dio che cos'è sta roba ma ho capito ti prego no ragazzi riccardo devi farlo con un po' di forza ce la puoi fare Riccardo non è molto forte ecco il parkour un po' di forza vabbè ragazzi quittiamo quitta un attimo Riccardo facciamo un bel parkour che forse pure tu sai fare il parkour no no è un parkour facilissimo ecco una mappa ecco una mia mappa no vieni Riccardo dai Andre ma è una cosa più bella nascondino no aspetta è un nascondino aspetta ci faccio un pa' pulpo che è super vince così ah no 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 non mi interessa questa qua Riccardo vieni qua pronto ma io voglio un nascondino allora mi metti un nascondino così posso far balla eh ma io non ce l'ho nascondino io non ce l'ho nascondino vieni qua c'è il microfono devi parlare ora mi hai detto balla balla il microfono ah io ho capito balla il microfono devo ballare il microfono devo ballare il microfono ok devo aspettare eccolo sto ballando il ballare il microfono come dici tu no io ti ho detto parla guarda parla eh ragazzi non vi preoccupate il mio microfono sta bene eh bla 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 eh ecco forse non dobbiamo forse se no lo facciamo più non si stende non si stende non si stende non si stende vabbè il dettaglio è esploso sono sparito il parkour andre se di vero è facilissimo dai andre stiamo insieme nel parkour e insieme il parkour no però è facile dai ragazzi è facilissimo no la freccia rossa è in giù ora freccia giallo ora ancora ora niente ok qua sono 4 minuti Riccardo ci sei? dove sei? apri l'ama apri l'ama questo è mio prendi l'altro perchè ce ne sono i nodi? ah aprile oh è il tuo il lama sto guardando già cosa c'è dentro questo è questo è granate ballerine non lo usare ora pronto? allora primo parkour fatto li sto completato adesso questo qua è più difficile appunto più facile allora non lo usare non lo usare io lo so fare io quasi qua non li ho mai capiti io li ho mai capiti me lo devo confessare non li ho mai capiti guarda ma che sei adesso è il freddo ok allora torri attivate passa 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 è il pesce dai non ti può qualcuno in aria quanto ti manca? ora dai sempre che mi si scollegano controller ci sei? no guarda muoviti passa passa no ormai no no dammela dividimela buttamela ok posso dammela andiamo? allora questo percorro è facile ok questo balliamo un po' ah Andre dai dove entra questa qua? allora pronto? devi salire qua sopra e saltare sono salito allora ci sei? sali qua sopra guarda come devi fare sali salta qua qua salti Dari chi ce puoi fare? dici Riccardo è morto nel 2020 sbagliato saluta saluta amico io gli dico batte le mani batte le mani sbagliato vediamo questo lo so fare questo lo so fare io lo so fare ballando guarda visto? ce l'ho fatta qua questo è più difficile siamo attenti perciò ma questo è facilissimo eh come non ho detto vabbè tanto qua c'è un salto più difficile devi saltare al bordo qua perché qua ce la fai a farlo devi salire da sopra saltando al bordo che lo so dai Righi devi andare piano dai Righi devi andare piano dai Righi devi lanciare ma che cosa servono poi le bombe ballerino? eh tanto per vai Righi devi saltare prima quello Adesso questo Devi saltare al limite Corri e salti al limite Corri e salti al limite Ok Dai muoviti Buono ma devi saltare Vabbè questo qua non lo so fare Ragazzi infatti un po' balliamo Vabbè noi andiamo avanti ok Oh non ci credo ce l'ho fatta Pure a tornare lì indietro E va già Già è fatta? No non ci l'ho fatta Ok noi intanto continuiamo ad andare avanti Allora qui è velocissimo Qui si fa velocemente Olè vero è questa Qui correre Soltare Olè E vi da il checkpoint Cercherò Eri te fermo Ascettami Che lo faccia? Però non c'è No non c'è il checkpoint Perfetto vi da il checkpoint Le fate il 7 No non c'è il checkpoint Come no? Aiii Solti il 7 Sì all'8 Questo devi saltare l'ultimo Allora l'ultimo Ti dico io Salta Allora questo è questo Allora ragazzi Io vi do una mano io a Riccardo Ragazzi vi sto dando una mano a Riccardo Intanto guardate io che vado qualcosa Io sto facendo io Non mi dico E la sapete Ragazzi tutto a posto? Ok Senti Poi ti devi sbattere Però avanti Adesso non prendere Quando devi sbattere Quanto il muro Dov'è? Avanti Di là Quello? Sì sì di là Di là No 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 L'altro Di là Non devi sbattere Quanto il muro Perciò che non c'è Di andare al lato E là dove c'è Guarda E' bravo E' tanto Andre aspettami Dai Che sono qua E' io Alla super velocità E' vabbè ragazzi Nel frattempo che aspettiamo Ok Insomma Pronto Via Corri 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 Che l'ho fatto? Pregli il check point Non l'ho preso Per controllo veloce Che l'ho fatto? Sto prendo pure io Questa volta Sono troppo veloci le trappole però Adesso ha il tempo Di andare a limita Armi No Righi Non devi fare così Guarda Devi fare così Guarda Vai qua Avanti In dettaglio Sia che Sia che ti metti tu davanti Sono ancora vivo Ander Ma con l'ho attivata E qua qua Devi andare avanti In dettagli Avanti In dettagli Questa è più facile Avanti in dettagli Avanti in dettagli E poi te la fai Perfetto Dai ricordo Ok Qui stessa cosa Attenzione ora Attenzione qua Trappola Qua c'è la manca caduta Che si prende Trappola Chi è trapponato Io Dai Gira Salta Attenzione trappola Trappola Devi arrivare Avvicinarsi Non è io Allora Guardi No 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 Non è io Ok E' districterato Adesso Attenzione Guarda bene qua Cosa c'è Un dropper Vedi Guarda Dai Non è morto Non si muore Se cali proprio Male Non si muore Riprova Vabbè facilissimo Sì Guarda qui Eh questo qua Di nuovo Quelli al limite Uno così Due così Uno morì Devi saltare qua Guarda Lì Al limite Corri Guarda il pavimento E salti Appena vedi Il piede al limite Il piede al limite Guarda E' facilissimo Dei guardare in basso Questo è già più facile Di quello di prima Pure fallibile Tutto bene Quanto siamo Tredici minuti Arrivederci ragazzi Ci vediamo al prossimo Dio Tredici minuti Tredici minuti